In palestra in Germania, sui banchi nel Regno Unito. Nell'Europa, alle prese con la pandemia, si intravede un primo timido tentativo di ritorno alla normalità. A Londra, che autorizza il ritorno in classe, Berlino replica allentando le maglie di restrizioni e di vieti. A riaprire, insieme a librerie, fiorai e autoscuole, sono anche le palestre. È bellissimo poter finalmente tornare a praticare dello sport in sala dopo tre mesi di semplice jogging e flessioni in casa. Nonostante le restrizioni e l'obbligo della mascherina, è comunque un ritorno a un po' di libertà. Medici infuriati e polemica sul vaccino AstraZeneca in Francia, in seguito alla marcia indietro che li priva delle forniture necessarie alle somministrazioni a beneficio delle farmacie. Levata di scudi a cui da Bruxelles replica indirettamente Ursula von der Leyen. 300 milioni di dossi entro giugno, la promessa della Presidente della Commissione europea. Proteste, ma di tutt'altra natura, in Romania, circa 3.000, le persone che davanti alla sede del governo hanno protestato contro la politica vaccinale di Bucarest e reclamato lo stop alle misure sanitarie che dopo un mese e mezzo di riaperture sono tornate a imporre una nuova chiusura di bar e ristoranti. Con 318 decessi nelle ultime 24 ore, l'Italia supera intanto la barra di 100.000. Roma accelera nella corsa le vaccinazioni degli over 70. Da mercoledì al prossimo lunedì, progressivo via libera nel Lazio alle prenotazioni per i nati dal 43 al 49, un totale di oltre 300.000 persone che la capitale spera di smaltire anche grazie a presidi come quello allestito alla stazione Termini. Grazie.